Ehi non cazzo, deve chiamare questa palestia, e chiamai, non mi, mi sono gallegati, mi stanno dando le mani cazzo, mi stanno dando le mani, senza motivo, non mi ha già, ancora, ancora, ma perché, ma perché, non la so perché, non c'è giusto, non mi devi toccare cazzo, non mi devi toccare senza motivo, si mette la macchina, si mette la macchina, senza motivo, la ragazza è incinta, la ragazza è incinta, l'hanno voluta a minacciare, e la ragazza è incinta, l'hanno voluta a minacciare, ma perché, non si mette la macchina, La ragazza è incinta, la ragazza è incinta, la ragazza è incinta, non la toccate, non toccate la mia ragazza, non toccate la ragazza che è incinta, niente perché di questa la mia ragazza, mi stanno facendo male alla mano, la mano! La mano! la mano mi sta facendo male la mano mi sta facendo male la mano la mano la mano se me la rompe giuro che le fai sul culo giuro che la mano sta rompendo me la sto rompendo me la sta rompendo me la sto rompendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no